Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul podcast di All You Can Italy, Italia, italiani e italianerie. Siete pronti a fare un viaggio nell'Italia più pazza? Sì, in questo podcast vi raccontiamo tantissime cose che riguardano non solo la lingua italiana, ma anche la cultura e l'Italia, come meta turistica, ad esempio. Oggi, beh, vi rapiamo in un viaggio nei luoghi più pazzi in cui mangiare in Italia, ossia i dieci ristoranti più assurdi e incredibili che possiate trovare in Italia. Si dice che gli antichi romani mangiassero sdraiati e che pur di continuare a rimpinzarsi fossero pronti persino a vomitare. Se pensate però che le abitudini bizzarre in quanto a cibo siano legate solo ai tempi passati, beh, vi sbagliate. Esistono anche oggi dei luoghi molto eccentrici in cui mangiare, che saranno sicuramente in grado di stupirvi. In questi ristoranti, a farla da padrone non è solo la qualità del cibo, ma anche l'atmosfera, che rende tutta l'esperienza culinaria un'avventura gratificante. Che cerchiate qualcosa di insolito, stravagante, romantico o avventuroso, in questi luoghi appagherete non solo il vostro palato, ma anche la vostra fantasia. E, beh, se pensate che questi luoghi fuori dal comune si trovino solo in paesi esotici e lontani, vi sbagliate, perché anche in Italia potete trovare i ristoranti strani, stravaganti e originali. Vediamo quali sono i venti da non perdere assolutamente. Il primo ristorante è il solo per due a Vancone. Se siete alla ricerca di un posticino romantico e intimo in cui portare una persona speciale, allora il ristorante solo per due è quello che fa per voi. Perché? Nel piccolissimo paesino laziale di Vancone, conta solo 267 abitanti, il ristorante solo per due può essere a ragione definito lillipuziano, battendo ogni record di dimensione e proposta. Offre infatti un unico tavolo per due persone. Due sono gli ospiti massimi che accetta e coccola a ogni pasto entro le mura della suggestiva villa romana appartenuta anticamente al poeta latino Orazio. Beh, una location più intima e romantica è impossibile trovarla. Una cena a lume di candela e con cameriere a esclusivo servizio per voi. Un'atmosfera romantica con ottima cucina a base di prodotti locali che rendono ogni cena un'esperienza indimenticabile. Certo, il ristorante più piccolo del mondo non è uno tra quelli a buon mercato, ma sicuramente ne vale la pena. Il costo, senza gli extra, beh, 500 euro. Ricordatevi, di tutti i ristoranti di cui parleremo oggi, trovate, o meglio, troverete presto, tutti quanti gli indirizzi e anche i numeri di telefono. Quindi tutti i contatti per vedere dove sono, come arrivarci e prenotare un tavolo. Il secondo ristorante pazzo è l'osteria Senzoste di Valdobbiadene. Da un ristorante solo per due a un'osteria Senzoste, all'oste che non c'è, una trattoria sicuramente alternativa, dove ci si può accomodare, consumare e rilassare servendosi senza ausilio di alcun cameriere. A Santo Stefano di Valdobbiadene, patria di rinomati vini e dello squisito Prosecco, sulla cima di una collina che offre un magnifico panorama, sorge un'osteria in cui la convivialità permea l'intera atmosfera. Una casa colonica di tre piani in pietra e mattoni, costruita a fine Ottocento e conservata allo stato originale tra le viti delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. La particolarità di questo locale, beh, è che nessuno in questa osteria vi presenterà il conto. Sarete in quanto voi a servirvi e a lasciare in una cassettina di legno la cifra che riterrete opportuna. All'interno dell'osteria Senzoste troverete prodotti alimentari tipici del territorio, ad esempio formaggi, salumi, uova sode, sottaceti, pane, grissini, caffè e aranciata. Tutto confezionato ed etichettato con il proprio valore. Il vino si trova negli erogatori automatici e refrigerati. Per poter effettuare comodamente la consumazione potrete usufruire di tavoli e punti d'appoggio collocati all'esterno, lungo il sentiero panoramico che porta alla cima Cartiz. Il Cartiz è anche un ottimo vino. Ci si serve autonomamente, ma soprattutto si paga il conto da soli tramite l'apposita cassa automatica presente all'interno del casolare. Ricordatevi però che non è necessario prenotare. Non sono disponibili né cibi cotti né super alcolici. Nelle giornate di maggior afflusso sul luogo possono essere presenti persone dedicate al rifornamento e all'assistenza. C'è anche la possibilità di fare il caffè e l'attività immediatamente adiacente non fa parte di Osteria Senzoste. Il luogo inoltre è accessibile liberamente fino alle ore 22 circa. E andiamo avanti. Il numero 3, il risto aereo di Fiumicino. Il risto aereo di Fiumicino nei pressi di Roma svela la sua particolarità già dal nome. La sua particolarità è un risto aereo. Ossia qui avrete la possibilità di trascorrere una spiacevole serata all'interno di un velivolo in stile anni 50, targato USA. Conve modello Metropolitan 440. D'altronde siamo a Fiumicino, l'aeroporto della capitale è proprio un tiro di schioppo. Il luogo è sicuramente insolito, non solo per l'aereo in sé, che è chiaramente l'attrattiva maggiore, ma anche per il piano inferiore, che è allestito come se ci si trovasse in una vera e propria giungla. I camerieri sono vestiti da piloti, il comandante vi accoglie e alla fine della cena vi chiede come è andato il volo. Il tutto unito ad un'ottima cucina. L'unica pecca? Il problema è che al momento, a seguito del covid e delle problematiche che ha portato alla ristorazione, il risto aereo si è preso una pausa, ma noi speriamo che torni a decollare nuovamente molto presto. Numero 4. La cena sull'albero. Una cena da veri baroni rampanti sempre a Roma. Se non soffrite di vertigini e siete amanti della natura, dovete assolutamente provare una cena sull'albero. Al parco dell'Eur è possibile pranzare e trascorrere del piacevole tempo assaporando un picnic a 7 metri d'altezza. Farete il pieno di natura. Ed eccoci a Cencio la parolaccia Roma. Lo sapete cos'è una parolaccia, no? Forse questo locale non vi è del tutto sconosciuto. La tradizione romana prende vita in questo ristorante fondato nel lontano 1941. Beh, qui potete mangiare facendovi prendere a parolacce. Sin dalla sua apertura questo ristorante si distinse per i suoi spettacoli tradizionali e la colonna sonora che accompagnano anche oggi ogni posto. Beh, una colonna sonora di folclore romano, canzonette, a base di temi spesso volgari e conditi con un linguaggio quantomeno colorito se non osceno. Serve prevalentemente cucina romana ed è famoso per gli insulti, per gli improperi e le parolacce, da qui appunto arriva il nome del locale, che vengono rivolti dal personale di servizio e dall'animatore. I camerieri ad ogni piatto fanno apprezzamenti e battute rivolte ai clienti. L'animazione musicale con chitarra e fisarmonica consiste in stornelli vernacolari romani, adattati e appesantiti in base al pubblico presente ai tavoli. Mangiare nel cuore della stupenda Trastevere, alla parolaccia, beh, significa gustare la tipica cucina romana, mentre si entra a far parte di un vero show, fatto di canti, balli, musiche e, beh, tante parolacce. Quindi vedete di andarci se siete tipi che non se la prendono troppo se vengono insultati. Sempre a Roma troviamo l'Ice Club, proprio nel centro della mitica capitale. È un rifugio refrigerante, nelle calde giornate estive romane. Il club romano ha meno 5 gradi sotto lo zero. Questo locale, creato totalmente con il ghiaccio, vi permetterà di vivere un'esperienza unica e vi calerà nei panni dei veri eschimesi all'interno del loro igloo. Benvenuto nel regno della regina dei ghiacci! Vivrete, beh, una serata oserei dire surreale, circondati da 40 tonnellate di ghiaccio ad una temperatura di 5 gradi sotto zero, sosseggiando chiaramente gelidi e prelibati bicchieri di vodka. E anche i bicchieri sono di ghiaccio. L'Ice Club di Roma è l'unico locale di Roma interamente fatto di ghiaccio, dalle sedie al bancone del bar, dalle pareti ai bicchieri. All'ingresso del locale verrete subito informati su quello che vi aspetta all'interno. Vi verranno anche consegnati una mantellina termica e un paio di guanti. Nel biglietto di ingresso è compresa anche una consumazione, oltre chiaramente a mantellina i guanti. Varcate le due porte ermetiche dell'ingresso, beh, entrerete in un mega frigorifero in cui tutto è fatto di ghiaccio. Il locale non è molto grande, si tratta di una singola saletta con delle panche di ghiaccio, chiaramente, e delle piccole salette ai lati. Il bancone del bar, chiaramente anche quello di ghiaccio, non è molto grande, ma il fatto che sia tutto di ghiaccio, tutto freddo, beh, rende l'atmosfera veramente speciale. Ogni sei mesi vengono direttamente dall'Inghilterra degli architetti per ricostruire l'interno del locale, scolpendo delle vere e proprie opere d'arte, come l'ambientazione Roma antica che è stata presente per moltissimo tempo in questo locale surreale. Beh, sicuramente è il locale ideale per chi ama i cocktail e non teme il freddo glagiale. Un altro ristorante, ma ci spostiamo a Milano alla atmosfera. Avete mai mangiato in tram? Beh, forse vi sarà capitato di mangiare un panino o uno snack veloce. A Milano, invece, potrete cenare in un vecchio tram, in cui eleganza, gusto e tradizione si sposano con un bel giro della famosa città della moda. Nella meravigliosa cornice del Castello Sforzesco, ATM propone un itinerario speciale, in cui al piacere del palato si unisce la bellezza di viaggiare nel cuore di Milano. Si chiamano Atmosfera i due tram storici, primi ristoranti itineranti in Italia. Rimodellando le originali panche in tech, sono stati ottenuti tavoli con comode sedute in posizione fissa, per un di ben 24 posti, suddivisi in quattro tavoli da quattro persone sulla sinistra e quattro tavoli da due persone sulla destra. A bordo sono presenti anche la cucina, il guardaroba e la toilette. E un tram abbastanza simile si trova anche a Roma e si chiama tramjets. Rimaniamo, insomma, in tram, ma uniamo, in questo caso, ai buoni sapori della cucina italiana e alla bellezza di Roma, i suoni energici e vitali della musica jazz. Tramjets, una serata di spettacolo che offre insieme un concerto jazz, un'ottima cena a lume di candela e un tour notturno, tutto a bordo di un tram storico da collezione, restaurato e risistemato come ristorante e sala da concerto viaggiante, e tutto nella fantastica e indescrivibile notte romana. E se avete già visto troppo, che ne dite del dialogo al buio? Siamo a Milano e questo è un vero e proprio percorso sensoriale, in grado di farvi vivere un'esperienza culinaria unica. Insomma, mettete in pausa un senso per acuirne un altro o tutti gli altri. I commensali vengono guidati nell'oscurità da camerieri ciechi e ipovedenti. Una volta al tavolo verrà servita ai commensali la cena, un menù completo durante la quale potranno conoscere la disabilità visiva, confrontandosi con i camerieri stessi e al contempo riscoprendo il vero potere di tutti gli altri sensi. L'istituto dei ciechi di Milano ha voluto aprire presso la propria sede un ristorante dove i commensali possono immedesimarsi in coloro che non hanno la vista. Ma secondo voi i profumi e i sapori saranno veramente più accentuati? Beh, provare per credere. E passiamo dalla cecità alla nudità, l'italo-americano di Cerro Maggiore a Milano. Amate uscire per andare a mangiare al ristorante ma odiate la sensazione a fine cena dei pantaloni stretti e dello stomaco compresso in abiti attillati? Se i vestiti vi stanno stretti e volete provare l'ebbrezza di gustare una cena concentrandovi solo sul suo gusto in tutta libertà? Beh, questo è il ristorante che fa per voi. Il nome e l'ambientazione non suggeriscono nulla di particolare ma se pensate che l'italo-americano sia un ristorante qualunque vi sbagliate, questo ristorante è il primo in Italia ad ospitare speciali serate dove è possibile cenare completamente nudi. Anche questo ristorante purtroppo però al momento risulta chiuso. Il covid ha colpito anche la nudità ma noi speriamo che presto in tempi migliori riapra per dare la possibilità a chi lo desidera di gustarsi una cena in abito ad amitico. E dal nudo alle manette in galera a bollate a Milano. La pena da scontare è un piatto che vi ruberà il cuore ed è l'unico ristorante in Italia realizzato in un carcere. È aperto al pubblico sia a mezzogiorno che alla sera e ci lavorano i detenuti stessi del carcere di bollate che seguiti e supportati da uno chef e maestro professionisti si dedicano a lavorazione dei cibi stupendo i clienti con ricette esclusive d'alta cucina. Il ristorante nasce per offrire ai carcerati regolarmente assunti la possibilità di riappropriarsi o apprendere la cultura del lavoro. Un percorso di formazione professionale e responsabilizzazione mettendoli in rapporto con il mercato, il mondo del lavoro e la società civile. Inoltre grazie alla sezione carceraria dell'istituto alberghiero Paolo Frisi di Milano, presente nella seconda casa di reclusione Milano bollate, i detenuti studenti possono svolgere in galera lo stage obbligatorio per il conseguimento del diploma alberghiero. È un posto giusto per mangiare bene e sicuramente un'esperienza personale da raccontare. Per entrare non servono permessi, è solo consigliato prenotare perché l'affluenza è quasi sempre da tutto esaurito. E eccoci qui, dalle manette al demonio, il ristorante Casa del Demone di Torino per una cena da brivido. Sei un appassionato del genere horror? Vuoi gustarti una cena con ottima carne al sangue? Beh, da gustare, trabare, teschi e con l'alito sinistro di inquietanti presenze? Allora la Casa del Demone è il posto che fa per te. In questo ristorante da brivido potrete gustare specialità di carne argentina, comodamente appoggiati su tavoli a forma di bara, circondati da teschi, ragnatelli e fantasmi, oltre a tantissime altre decorazioni spaventose. E passiamo ad un'altra ambientazione molto particolare, la ristopizzeria Bounty Sea Tavern a Firenze. Beh, entrate in un galeone e mangiatevi una buona pizza. Si tratta di un luogo in cui consumerete un pasto seduti ad un tavolo ricavato da vecchie scialuppe e tutto, le mura, i pavimenti ed il tetto vi faranno pensare di vivere in prima persona l'avventura pirata dei Caraibi. Persino il cielo stellato vi inviterà a sognare. Che bello! E se invece volete un po' di sano lavoro, e allora andate a mangiare in fabbrica a Firenze. In fabbrica a Firenze trovate il primo ristorante in cui è possibile cenare in una vera fabbrica d'argento. La mensa dei lavoratori dell'argenteria Pampaloni risale a lontano 1902. Questo spazio, che di giorno è ancora adibito a mensa per i lavoratori della Pampaloni, si trasforma, la sera, in un vero tempio per amanti della buona cucina. Alle 17 gli operai staccano dal lavoro e se ne vanno a casa. Ma in mensa? No, non si spengono le luci. Anzi, inizia a brillare una location molto suggestiva, fatta di tavoli in legno, piastrelle celestri in stile vintage e un'immensa luminaria a forma di falce e martello. In cucina c'è uno chef giapponese che arriva direttamente dal Four Season di Tokyo e infatti i suoi piatti, beh, hanno delle tendenze molto fusion. E se ancora non siete rimasti a bocca aperta, allora che ne dite se vi dico che in questo locale si mangia con posate d'argento, su sottopiatti d'argento e con enormi candelabri d'argento. Eh, però, anche il ristorante alla Pampaloni purtroppo ha dovuto fermarsi per il covid. Eh, sì, ha avuto una battuta d'arresto. Ma noi siamo veramente fiduciosi che riapra presto per rivivere di nuovo i suoi anni d'oro. Ops, d'argento. Invece a Firenze l'è maiala? Eh, sì, l'è maiala. Mangiate e pagate alla vecchia maniera. Voi ordinate pappardelle al cinghiale, pappa al pomodoro, trippa. E se volete potete pagare la cena con una bottiglia di vino, una cassa di pomodori oppure un quadro. In tempi di crisi succede anche questo, perché come si dice in fiorentino, l'è maiala. L'è maiala significa è dura, c'è crisi. Quest'osteria rappresenta il primo ristorante anticrisi, dove è possibile pagare la cena con merci e oggetti vari, preferibilmente di artigianato locale oppure prodotti alimentari certificati. Come funziona? Beh, è veramente semplice. Basta telefonare prima, proponendo la merce che si intende barattare. I proprietari preferiscono prodotti dell'orto di casa. Frutta e verdura di stagione vanno benissimo. Due bottiglie di vino vanno più che bene, ma anche prodotti di artigianato oppure vecchie cose che si trovano in casa. E se quello che proponete o portate non basterà per pagare il vostro conto, nessun problema. Pagherete la differenza in denaro, evitando così di rimanere a lavare i piatti. Ah, la cucina è a base di ottimi piatti toscani. E torniamo in prigione. Eh sì, perché se non pagate, lì finite. Questa volta però a Volterra. In un'ala del carcere di massima sicurezza, racchiuso nella fortezza medicea a Volterra, potrete cenare in un'atmosfera sospesa, dove i secondini terranno d'occhio i galeotti impiegati nel servizio ai tavoli, osservati da lontano anche dalle guardie, poste sulle torrette. Insomma, una cena adrenalinica, quella offerta dal cena in prigione. Poco lontano da Pisa e da Firenze, a Volterra, che tra l'altro è una cittadina bellissima, si trova la fortezza Medicea, una famosa prigione che assomiglia ad un maestoso castello, costruita da Lorenzo il Grande nel 1342, che la fece subito diventare un carce di massima sicurezza. E lo è ancora oggi. Questo luogo particolare ha visto prendere vita negli ultimi anni ad un bellissimo esperimento sociale. Al suo interno è stato aperto un ristorante in cui lavorano gli stessi detenuti della struttura carceraria. Verrete serviti, anche qui, come a Milano, in cene speciali, da assassini e ladri, controllati da guardie di polizia penitenziaria e privati all'entrata dei vostri cellulari ed anche di oggetti metallici e soprattutto appuntiti che potrebbero risultare pericolosi. Un altro ristorante è il Convento, o meglio, Lo Convento ad Arnà, a Osta. Nel ristorante Lo Convento, al momento purtroppo chiuso, a servire ai tavoli erano frati e suore, che in modo rustico e cortese presentavano agli ospiti cibi semplici e sempre freschi. L'arredamento del ristorante richiamava l'ambiente religioso e conventuale, confessionale. Camerieri vestiti da frati e camerieri vestiti da suore, a fresche alle pareti e scritte in italiano medievale. Si veniva ricevuti dal padre guardiano e portati al tavolo dal padre priore. Preghiamo, fratelli, preghiamo perché riapra presto. Ed ecco, parlando di pazzia, la trattoria ciabot di Riva Nazzano. Una cena pazza, assolutamente pazza in tutta allegria. Trattori, pompe per fertilizzanti, cariole e cazzuole sono alcuni degli attrezzi edili e agricoli con cui al ciabot vi serviranno il cibo per un'esperienza goliardica da provare. Cenare qui è veramente surreale. Non è un'esperienza adatta ai palati più esigenti, amanti della nouvelle cousine, naturalmente. Ma a chi per andare al ristorante ama sfoggiare abiti firmati, oppure a chi sceglie sempre ristoranti eleganti e raffinati. A chi, quando va al ristorante, vuole essere servito come un re da camerieri educati e preparati e a chi odia la baldoria mentre si mangia. Le tovagliette del ciabot sono fatte con stracci puliti. L'aperitivo vi verrà servito nel bicchiere attraverso una pompa per il fertilizzante e l'antipasto è servito su una tegola, verniciata e pulita, chiaramente. Poi, dopo aver superato questo shock di benvenuto, vi ritroverete in sala un trattore che dispensa ai clienti i ravioli. Poi è il turno del risotto alla muratora. Lo spettacolo diventa esilerante perché sarà portato in una cariola per poi essere servito come si trattasse di cemento con cazzuola e frattazzo. Il dolce è servito in un vaso da notte mentre l'ammazza caffè. Beh, quello ve lo verseranno in bocca con l'imbuto. Che pazzia! E se invece quello che vi piace è un ristorante più elegante e silenzioso e in un luogo mozzafiato, allora il ristorante estivo Grotta Palazzese di Polignano a Mare, un ristorante unico al mondo. Un luogo magico e incantato, un ristorante con una terrazza ricavata all'interno di una grotta naturale. Il ristorante Grotta Palazzese prende il nome dall'omonima grotta e dal luogo che un tempo era denominato anche Grotta di Palazzo. È un posto esclusivo e ricco d'atmosfera. Utilizzato per feste e banchetti fin dal 1700, come testimonia un acquarello del 1783 di Jean-Louis Desprez. L'azzurro del mare e del cielo si contrappone alle misteriose atmosfere delle cavità naturali. I colori del giorno fanno risplendere la bellezza del paesaggio costiero, mentre quelli della sera al tramonto creano sfumature indimenticabili nel fascino e nell'eleganza delle luci del ristorante. Il ristorante Grotta Palazzese non è solo conosciuto per la bellezza e l'unicità della roccia in cui è incastonato. La cucina, infatti, è quella ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di esclusività e raffinatezza. E, beh, l'ultimo, ma non ultimo, il Dinner in the Sky. Mangiare tra le nuvole. Questo ristorante sospeso non fa per voi se soffrite di vertigini o, beh, se dovete andare spesso al bagno. Dinner in the Sky è la cena su un ristorante panoramico appeso ad una gru a 50 metri d'altezza. La struttura è sostenuta da una gru da 120 tonnellate e può ospitare 22 commensali seduti intorno al tavolo e uno staff di 4 persone al suo centro, uno chef, due camerieri e un tecnico. Gli eventi di Dinner in the Sky sono itineranti, quindi si spostano per tutta Italia. E se ci andate, ricordatevi di andare al bagno prima. E io ora vi ringrazio di essere stati con noi in questa carrellata dei ristoranti più pazzi d'Italia. Spero di avervi dato qualche buona idea per la prossima vostra cena italiana e, soprattutto, spero di avervi dato un buon motivo per continuare a seguire il nostro canale e i nostri podcast. Ciao e alla prossima da All You Can Italy! Ciao!